Comunque, andiamo avanti con le recensioni della Sestina, arriviamo al libro di Chiara Valerio, Chi dice e chi tace, pubblicato da Sellerio. Una dei titoli che erano più in alto nella utilissima classifica delle vendite. Quello delle vendite, pensavo delle votazioni. No, era più alto Voltolini nelle votazioni, se non sbaglio. Però subito dopo la pubblicazione della Sestina, un giornalista, se non sbaglio, sul suo profilo social... No, ma era della dozzina però. Non era della dozzina? Sì, però comunque era veramente inutile quello screenshot di dati di vendita proprio perché... No, più che altro perché era della dozzina e comunque sono tutti usciti in periodi diversi. Quindi è chiaro che magari cose che stanno da più tempo hanno più vendite, ma poi in proporzione ne hanno di meno magari rispetto... Vabbè, comunque questo non ci interessa. Cioè ci interessa relativamente, forse a loro interessa molto, ma sembra giusto dovendoci campare. Nel caso di Chiara Valerio si tratta di un romanzo interessante. Siamo a Scauri, che credo sia anche il suo luogo di nascita o comunque insomma siamo lì come zona. Diciamo al confine tra il Lazio e la Campania, ecco. E come dice giustamente lei, un posto né bello né brutto, in effetti. Leggo da Wikipedia, Scauri, 3 marzo 1978. Allora, la storia ha un non so che di indagine, però non lo possiamo considerare un giallo. La protagonista è Lea Russo, che appunto vive in questa cittadina e a un certo punto apprende della scomparsa di una donna, Vittoria, che si era trasferita nella città molti anni prima insieme alla sua compagna Mara. E diciamo scatenando una serie di reazioni, proprio perché appunto due donne che vengono a vivere da sole in un posto, si sono comprate una villa di quelle diciamo un po' decadenti che si trovavano in questo paese, hanno messo su una specie, diciamo tra una fattoria e un servizio di dog sitter. E a un certo punto questa donna muore in un modo anche abbastanza strano, perché muore nella vasca da bagno. Nuotatrice provetta che tutte le mattine, anche d'inverno, va a fare il bagno al mare, quindi muore in questa vasca da bagno. E da questa morte scaturiscono tutta una serie di riflessioni della protagonista, che conosceva ovviamente Vittoria, ma non solo, questa Vittoria è una donna molto affascinante, che lascia qualcosa in tutte le persone che incontra, che vengono un po' catturate da questo suo modo di essere, di gestire la vita, anche da questa sua aura di ribellione, rispetto alla canonicità delle situazioni. Siamo anche negli anni 70, quando si è trasferita Veronica Vittoria. Quindi, insomma, negli anni 70, due donne soli in un piccolo paesino di provincia avevano creato abbastanza... Però poi invece la sua abitudine a questi luoghi aveva anche creato una specie di familiarità con tutti, anche con le persone che potevano sembrare più retrograde rispetto a questa relazione, a questo rapporto. Quindi lei inizia a farsi delle domande su questa donna, ma com'è scomparsa, perché è scomparsa, e cerca di scavare nel suo passato, di capire da dove viene. Parte una sorta di indagine personale che pochissimo nulla ha a che vedere con la scoperta della reale dinamica della morte, perché non è poi questo che interessa, quanto piuttosto cercare di capire come è stata la vita di questa donna e soprattutto capire se questa fascinazione che lei approvava per lei era una fascinazione più simile a un amore, a una relazione sentimentale, oppure ha una fascinazione pure semplice. Lei è sposata con due bambini, quindi insomma è anche un po' un momento di rivoluzione del suo modo di essere, di pensare se stessa, direi più di tanto. È un libro sicuramente interessante, mi è piaciuto. Il modo in cui la Valerio scrive è effettivamente, forse deve piacere, perché somiglia molto al modo in cui parla, il che è un complimento, perché comunque scrive molto bene e anche parla molto bene. Lei ha una capacità, insomma, anche di coinvolgimento molto forte, ma è sicuramente particolare. Può essere anche molto fastidioso per qualcuno, può essere respingente. Ecco, pensate che il libro ha quel ritmo, cioè ha il ritmo della parola di Chiara Valerio, molto veloce, molto serrato, che appunto può piacere o meno. Tra l'altro è stata anche presa in giro durante la presentazione. Sì, ecco, lei sicuramente è un personaggio, anzi è una personaggia direi quasi. Gli hanno detto che a sostegno delle parole, degli interventi di Chiara Valerio, spesso si adoperano dei servizi di sottotitoli. E devo dire che lei, è stato divertente il momento in cui lei ha detto che si è sorpresa del suo grado di tolleranza alla condivisione e alla vita con altre persone. Perché diceva, io non pensavo che sarei riuscita a sopportare di stare così tanto tempo con altre cinque persone senza sbroccare. È stata una bella ammissione anche della propria debolezza da quel punto di vista. A proposito di quello che tu hai chiesto a lei durante l'incontro, c'è stato un momento in cui a tutti e sei gli autori e autrici sul palco hai chiesto il rapporto con la scrittura e il rapporto con la scrittura di questo libro. L'apporto con il libro, con questo libro, sì. Ecco la notevole risposta di Chiara Valerio. Allora, intanto io scrivo continuamente tutti i giorni, un sacco di tempo al giorno, da quando ho imparato a scrivere. Siccome vengo da posti dove si fanno le mozzarelle, si vedono fare le mozzarelle, io immagino la scrittura come una grande pasta di mozzarella dove a un certo punto il mozzarellaro decide che vuole fare i bocconcini, vuole fare la tetta, vuole fare la treccia gigantesca e a un certo punto vuole fare il leone come Canova che fa il leone di burro. Quindi io mi immagino la scrittura, o comunque penso me stessa, come il mozzarellaro che a un certo punto ha questo gigantesco flusso e decide di farci delle cose. E nel momento in cui decide di farle e le fa, capisce che le sa fare. Quindi questo è sostanzialmente il mio rapporto con la scrittura. Dopodiché io più ancora di scrivere leggo dalla mattina alla sera. E perché leggo dalla mattina alla sera? Un po' per quella cosa di prima della nostalgia, che le cose una volta che le hai toccate esistono quelle e le altre non più e vuoi avere quelle a fianco? Un po' perché mi diverte vedere se nei libri c'è lo spazio per le interpretazioni che non sono quelle di chi le ha scritte. Ecco, quando io nei libri mi vengono dette rispetto ai libri che scrivo delle cose che non avevo pensato e che ci sono, penso ecco, ho scritto un libro, perché questo libro contiene lo spazio di vita per un altro essere umano che ci legge. Quindi ogni volta che c'è qualcuno che mi dice rispetto a questo libro qui, molte persone mi hanno scritto dicendo ma nella figura di Vittoria c'è Michela Murgia? E io dico no, non c'è Michela Murgia, rispondo. Però dentro di me penso, uno mi vede a ridere, penso Murgia avrebbe odiato Vittoria. La seconda cosa penso, però se ce la vedono forse da qualche parte, per loro esiste e va bene lo stesso. Nel senso, quando sei diventato lettore o lettrice del libro che hai scritto, va bene così. Quindi anche tu puoi avere il diritto di vederci delle cose che non c'erano prima e questo è fantastico, perché tu sicuramente non ce le hai messe, però da lettrice ce le puoi mettere dentro e quindi puoi correggere ciò che hai fatto. L'aggettivo dunque rispetto a questo libro è quello che ho rispetto a tutti gli altri libri. Per me è una cosa solita. Dopodiché, dopo 30 presentazioni, noi chiaramente adesso viviamo nel samsara, nella ripetizione. Adesso la ripetizione, se la gallia è divisa in tre parti, come diceva Cesare, esistono per me due definizioni affidabili di ripetizione. La prima è quella che è da Proust, nella recherche. Nella recherche c'è tutto, quindi se dite ci stanno i basoli, sì, nel basoli e nella recherche. Comunque, c'è sicuramente la ripetizione, la ripetizione che dà il senso della realtà. Quindi ripetendo e raccontando il nostro libro, questo libro acquisisce una forma. Dalla seconda parte, la ripetizione, che è il contrario della nostalgia, ma sarebbe troppo lungo da dire, quindi qui chiudo, Paolo Di Paolo. La seconda parte della ripetizione è la mitologia, cioè il si dice, la ripetizione mitografica su una cosa, motivo per cui non solo dopo 30 incontri noi abbiamo un po' tutti scritto il libro degli altri, contraddetto il libro degli altri, corretto il libro degli altri e fatto un solo libro, ma alla fine abbiamo scritto tutti, e di questo vorrei ringraziare la fondazione e tutte le persone che ci hanno incontrato, abbiamo scritto tutti Anna Karenina, perché siamo tentati un'altra cosa. Quindi, grazie. Grazie a tutti.